Domande particolari. Oggi leggo la domanda di Gaetano che mi scrive Ciao Massimo, volevo farti una domanda un po' particolare. Leggo in giro che il denaro è energia e che la ricchezza non è vero che bisogna accumularla con fatica e duro lavoro. Dicono anche che il denaro arriva solo se hai un buon rapporto con esso, se sei calibrato a riceverlo. Insomma, cosa ne pensi di questo approccio puramente spirituale e poco pratico? Questo è un tema sicuramente affascinante e ti darò la mia opinione che considero tutt'altro che verità. In ogni caso, sono convinto davvero che non serva necessariamente il duro lavoro come si intende quello che era una volta, quindi lavorare 15 ore al giorno con grande fatica, ma oggi è più importante un lavoro intelligente, quindi più un lavoro di pianificazione, organizzazione, eccetera. Detto questo, bisogna comunque impegnarsi. È richiesto davvero tanto impegno, tanto tempo, tanta energia per riuscire a creare qualcosa di profittevole che possa portare risultati. Spesso i risultati, tra virgolette, troppo veloci in realtà nascondono sempre un altro lato della medaglia che nella maggior parte dei casi, perlomeno per quella che è la mia esperienza, hanno qualcosa che non va. Quello che però a me è colpito riguardo a questo tema, che ne parlo degli anni, anzi credo che la mia prima pillola in assoluto che riceve e che si iscrive nelle mie pillole di business, e penso sia anche il mio primo video, è quello che riguarda il termostato, ovvero Art Becker. O perlomeno io ho ricevuto questa informazione per primo da Art Becker, dal suo libro, e lui sostiene che ognuno di noi ha una sorta di termostato alla quale è impostato un determinato valore. Questo valore rispecchia i soldi che una persona riceve e guadagna ogni mese. E guardandoci attorno ci renderemo conto, e qui devo ammettere che più o meno è una cosa che ho notato di vera, ci sono persone che guadagnano determinate cifre, perdono il lavoro, rimangono senza lavoro, cambiano lavoro, si trasferiscono in una nuova città, lo stipendio che prendono è sempre quello. Quindi secondo Art Becker loro hanno il termostato tarato a quel livello. A me è successo più volte, soprattutto in tanti anni fa, di superare quello che probabilmente era il mio termostato e per un motivo o per l'altro dopo pochi mesi questo valore è crollato drasticamente riportandolo al livello di quello che probabilmente era il mio termostato. Ed è da certi punti di vista interessante come cosa perché, ad esempio, io potrei chiedere a qualcuno ma tu andresti mai a lavorare per 800 euro al mese? C'è chi ti risponderebbe assolutamente no, eppure ci sono persone che vanno a lavorare anche per meno. Il punto però è che chi ti risponde di no non sono persone che ti dicono no e restano senza lavoro, sono persone che si mettono in moto e trovano un lavoro a una cifra molto più alta. Quindi questa è una cosa affascinante, probabilmente del cervello umano, che rispecchia un po' il succo della tua domanda. Quindi perché persone riescono a farsi pagare di più e magari hanno competenze molto uguali ad altre che però si fanno pagare di meno. Però a parte questa piccola divagazione, io non sono convinto che sia sufficiente sperare per attrarre i soldi, eccetera. No, assolutamente, ma bisogna avere le giuste competenze perché senza le competenze oggi non si riesce ad andare da nessuna parte. Due, serve del tempo e se lavori in maniera intelligente puoi restringere il tempo richiesto per ottenere determinati risultati, ma in ogni caso non possiamo ottenere dei risultati dall'oggi al domani. Su quello, come dicevo prima, se c'è la possibilità c'è sempre qualcosa che è un altro lato della medaglia, sempre. Infine, tre, un'altra cosa da tenere a mente, è che chi ottiene una grande somma di denaro e non è in grado di gestirla, o meglio, non l'ha mai ricevuto, non ha mai avuto così tanti soldi e quindi, diciamo, si trova con dei soldi in eccesso, li sperpera. Questo è un dato di fatto, praticamente. Confrontatevi con persone che hanno avuto degli aumenti di stipendi molto importanti, vedrete che in pochissimo tempo hanno cambiato casa, hanno comprato macchine, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema è che se poi tornano allo stipendio precedente, sono in difficoltà perché non sono più in grado di mantenere quello stile di vita. Inoltre, sono stati fatti diversi studi, sia in Italia che all'estero, sui vincitori della lotteria. Persone che hanno vinto alla lotteria milioni e milioni, dopo mediamente 5 anni, se non sbaglio, oltre il 95% delle persone era ritornata alla vita precedente, il che vuol dire che se 20 persone vincono 100 milioni alla lotteria, tra 5 anni, in 19, sono alla situazione iniziale. Hanno perso tutto, o hanno speso tutto. E io sono sicuro che se ti chiedessi, ma se tu vincessi 100 milioni oggi, come cambierebbe la tua vita? Migliorerebbe sicuramente, e nella tua testa pensi di essere a posto per sempre. La realtà è dei fatti che non è così. Quindi, non lo so, io sono abbastanza scettico su questa visione un po' spirituale delle cose, però devo ammettere che in alcuni casi vedo delle circostanze che si ripetono in maniera continuativa e delle situazioni che veramente sembrano rispecchiare questa filosofia, questa visione del denaro. Quindi, per concludere, se hai già delle competenze, inizia a lavorare in maniera intelligente, imprenditoriale, allora puoi ottenere risultati molto importanti anche in tempi relativamente stretti. Se non hai competenze, ecco, io starei molto attento perché senza competenze oggi non si va da nessuna parte. Al contrario, con competenze importanti si possono ottenere veramente di grandissimi risultati. Quindi, diciamo, concretezza, competenze e meno spiritualità. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, questo è un tema effettivamente mega affascinante, quindi se volete lasciarmi il vostro commento, la vostra opinione a riguardo, magari la vostra storia o comunque qualche, diciamo, qualcosa di interessante a riguardo, sarò molto felice di leggervi. Con questo è tutto davvero e vi saluto. Ciao!